Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con il Doc, un argomento assai interessante che abbiamo ricevuto sia io che lui nei nostri Instagram, direct come domanda e anche nei commenti, ma anche di video che non c'entrano nulla, tipo video dove vado in giro, che faccio gli affari miei o negli allenamenti, riceviamo sempre una costante, una domanda che spaventa la maggior parte di voi, anche perché sono quasi tutti di giovane età quelli che ci seguono. La domanda è, ma Danny ho 15 anni, posso iniziare ad andare in palestra? Danny ho 16 anni, la palestra fa male perché il dottore ha detto che rimango basso e non cresco più se faccio palestra? Allora quale sede se non questa può sfatare determinati miti? Quindi insieme al dottor Davide Artusi andremo ad affrontare questo quesito che spaventa molti di voi, perché Davide, tanti ragazzi che guardano i nostri video dicono boia, come noi quando guardavamo i film di Van Damme, no? Boia, guarda che fisico anch'io, voglio puntare a quello perché mi piace il corpo formato, lo voglio, però ho paura di iscrivermi perché sono ancora piccolino. Sì, allora vorrei partire con degli esempi pratici perché ragazzi i dati scientifici potremmo tranquillamente andare a pescarli, ma non è quello il punto. Il punto è che se guardiamo fuori dall'Italia vediamo degli scenari completamente diversi e parlo nello specifico di allenamento ad alti livelli, parlo di pesistica, quindi di weightlifting, di powerlifting, dove appunto si va a ricercare i carichi massimali nei vari esercizi, snatch, clean and jerk, deadlift, eccetera, eccetera. Ora, qui in Italia abbiamo la credenza, il mito, la leggenda radicati nel nostro cervello che se facciamo dei pesetti rimaniamo piccoli, che si blocca la crescita. Ora io vi dico, guardando fuori dall'Italia e guardando agli atleti adulti che hanno cominciato a fare pesi a 10, 12 anni, perché ragazzi in America per esempio, che è la patria del fitness, del bodybuilding e in generale della pesistica, non sono umani, non sono piccoli, sono più alti di noi e loro appunto cominciano, vuoi per pesistica funzionale al football, vuoi per comunque, lì nelle scuole... È vero perché inizia a livello complementare l'allenamento in sala pesi e le scuole, i college e anche le scuole per un'età più bassa sono fornite di sala pesi e che fanno invidia alle nostre palestre. Esattamente, allora questi ragazzetti cominciano il football, devono guadagnare una borsa di studio, cioè devono vivere col football, devono essere solidi, compatti, grossi... Solo questo ti fa capire l'importanza dello sport nello stato umano, cioè... Esatto, e cosa fanno? Hanno due ore di allenamento alla mattina, i pesi in pausa pranzo e altrettante ore di allenamento in campo di nuovo. Ora, ripeto, questi atleti, quando diventano adulti, non sono un metro e cinquanta. Già, questo dovrebbe farci capire che probabilmente la credenza che abbiamo, che è così radicata in Italia, non è poi così vera. E, ok, ho citato l'America, ma potrebbe essere tranquillamente la Russia, la Germania... Diciamo che atleti adulti... Permettimi. Sì, prego, maestro. Tutti tranne noi. Eh sì, ma... Alla fine è così. Io lo dico spesso, siamo il popolo della pasta asciutta. Ragazzi, dal punto di vista della salute, è meglio fare pesi piuttosto che mangiare come mangiamo normalmente in Italia. Ma, tornando al discorso del fanno male i pesi, posso farli. Certo, potete farli. Se sentite che questa è la vostra vocazione, se desiderate un fisico che fa la differenza, che si distacca dal fisico comune, cominciate a fare palestra, ma cominciate in maniera sapiente, facendovi seguire da qualcuno che ne sa più di voi. E ahimè, qui andiamo addosso a un altro grosso problema, la carente formazione probabilmente di una buona parte dei tecnici qui in Italia. Ci sono, ahimè, alcuni trainer che insegnano i pesi, arrivando da discipline diverse. Quindi, sono un grande atleta di surf. Fantastico! Perché non insegni il surf? No, perché magari non è andata bene, allora vado in sala pesi a fare un po' di pesetti. Quindi, non è il lavoro per te, a meno che tu non abbia intrapreso un percorso di un certo tipo. Nel nostro caso, nel nostro piccolo, posso dire che il fitness, il bodybuilding, l'allenamento è la nostra vita. Abbiamo sposato la causa e continuiamo a farlo e cerchiamo di passare le informazioni corrette. Dando appunto quegli spunti pratici che ci fanno avere una lampadina che si accende e dire, oh, ma sai che forse... Gli diamo quell'imbocco, ok? Come il mamma uccellino che imbocca i piccoli, noi siamo uguali, vogliamo essere uno starter per voi. Esatto. Però lucido, con una luce e argomentando sempre, perché se guardate i nostri video non diciamo mai, è così e basta, fidati. Esatto. No, assolutamente ci mancherebbe. Giustamente dobbiamo avvalorare le nostre tesi. È così perché, lo diciamo noi, che l'abbiamo studiato e avvalorato con l'esperienza. E perché hanno fatto la stessa cosa decine e centinaia di altri tecnici del settore nel mondo, tecnici che sono molto più bravi, competenti ed esperti di noi, perché in realtà noi siamo relativamente giovani. Mi permetto di fare una citazione. Ci sono alcune interviste online su YouTube di Boris Shiko, che è un noto preparatore russo dal punto di vista della forza, principalmente powerlifting, quindi squat punk a stacco. Sì, lo sta leggendo la Cerri che è sempre... Ecco, e lui ovviamente allena anche i teenagers e come lo fa? Ha dichiarato diverse volte che i primi anni il lavoro tecnico sulle alzate viene eseguito con un bastone, con un legnetto, ragazzi, che probabilmente peserà. Quanto peserà mai sto legnetto? 300 grammi, 500 massimo. Ma sì, 3 etti. E questi ragazzi simulano gli schemi motori delle alzate per apprenderli senza carico. E in quegli anni abbinano un condizionamento fisico, quindi un allenamento generico, che metterà le basi per poi arrivare in un secondo momento a poter tollerare senza problemi grandi carichi. Quindi il lavoro sull'esecuzione, la maggior parte delle volte i ragazzetti entrano in sala pesi e presi dall'entusiasmo, che io adoro ragazzi, io vivo per quell'entusiasmo. Quando vedo un ragazzino che si entusiasma per i pesi, mi emoziono anch'io. Però poi vedo quel ragazzino prendere dei manubri pesanti, che sarebbero pesanti per me. E questo ragazzino esegue dei movimenti degni. Scombinati. Non sono i pesi a fare male, sono i pesi fatti male a fare male, o i pesi inadeguati, non contestualizzati. Perché ragazzi, noi riusciamo a scuotare e a staccare più di 200 kg. Ma l'abbiamo fatto dopo anni e anni e anni di stacchi e scuot mediocri, che pian pianino sono arrivati a una progressione discreta. Infatti tanti ragazzi, scusa se ti interrompo, lo dico, ci scrivono, porca miseria, mi abbatte guardare i vostri video, Davide che fa stacchi a gambette con 200 kg, te Danny che spanchi 180, io a malapena arrivo a 90, è normalissimo, anche noi eravamo a quei carichi lì. Dovete non essere voraci, golosi ma non voraci. Quei pesi arrivano se fatti con intelligenza. Non siamo dei super uomini, ahimè. Io magari. Lui sì, io ho solo il berrettino che mi dà manforte. Sì, abbiamo voluto mettere un outfit per i giovani, visto che è rivolto a loro. Molto team. Esatto. Team friendly. Bene ragazzi, quindi appunto quando vi chiedete se fa male, no, non fa male, ma dovreste farlo nel modo giusto. E quindi il programma non deve essere solo adatto all'età, ma anche alla struttura fisica, alle leve, se siete endomorfi, ectomorfi, diciamo il vostro corpo è nato in un modo prestabilito, quella che potremmo chiamare la classica genetica. Quindi abbiamo una struttura base su cui lavorare e che ci impone in alcuni casi dei percorsi. Già questo ci dà delle direttive sulla quale lavorare. Attenzione, ho detto percorsi e non limiti. La genetica non dà dei limiti, non in assoluto, ma ci indirizza e noi dobbiamo essere strategici nel gestire, per esempio, la selezione di uno sport. Se io nasco, che ne so, nell'età della pubertà, cresco di 40 centimetri, sono alto 1,90 m e peso 45 kg, probabilmente non diventerò mai mister Olimpia. O magari anche sì, però dobbiamo in qualche modo essere anche realistici e lavorare di conseguenza, perché questa pertica da 1,90 m non potrà ovviamente fare il mio allenamento, anche quello che ho fatto da giovane. Perché io sono un anetto, sono 1,70 m, quindi ho scelto degli esercizi particolari, una progressione particolare. È tutto adattato e contestualizzato. Bisogna sapere interpretare, bisogna sapere leggere, avete capito? Sono informazioni importanti che ovviamente voi, come noi quando abbiamo iniziato, non sapevamo leggere. Per quello bisogna sempre affidarsi a qualcuno che ne sa qualcosa in più. Non potrai mai imparare a suonare, che ne so, il trombone solo perché te lo metto in mano, a meno che tu non sia veramente un genio. Ma comunque è giusto avere degli insegnamenti, capire le prime pratiche per la movenza e dopo creare magari delle sinfonie proprie. Ma all'inizio bisogna imparare ad usare questo strumento e così dovete imparare ad usare il vostro strumento. Il corpo abbinato ai sovraccarichi e ai pesi che male non fanno se usati con sapienza. Assolutamente. Quindi noi ci sentiamo di dirvi che hai 15 anni, perché non dovresti entrare in palestra e avvicinarti a questo sport? Io ho iniziato a 16 per dire. Io a 18. Lui a 18, ecco. Però io a 16 ho iniziato, mi sono avvicinato e io purtroppo, non mi stancherò mai di dirlo, ho iniziato un po' a casaccio. Trainer formati nella sala non c'erano allora come adesso perché per lo più le palestre non hanno tutti questi grandi budget per poter mettere un capoccione che sa. Ovviamente all'inizio c'è l'istruttorino che ha appena preso il diplomino e quindi gli costa poco la palestra e quindi ne sa quel che ne sa. È indicativo questo, dopo c'è la palestra veramente più cazzuta con il proprietario pluricampione. E allora questo è un altro paio di maniche. Ma per la maggior parte delle persone che ci seguono e che vediamo che lamentano questa cosa, entro in sala, non c'è nessuno, non so cosa fare, quello è un guaio. Lì potrebbe essere pericoloso per te entrare e avvicinarti a questo mondo perché prendi i manubri, cerchi di scimmiotare i nostri movimenti che hai visto e dici Davide aveva i manubri da 40, metto i 20. No, 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 non è così che funziona. Attenzione, prima bisogna imparare, come ha detto lui, le movenze, ok? Dovete riuscire a capire un po' di biomeccaniche per non farvi male. Per quello parlava degli allenamenti con il bastone, perché quando riescono a far memorizzare agli atleti i movimenti, lo schema motorio, quelli vengono salvati talmente proprio nel cervelletto dentro che ha occhi chiusi, quando hanno un carico in mano, che sia una sedia che vanno a spostare una qualsiasi cosa, hanno l'impostazione corretta. Prevenire l'infortunio fa sì che voi possiate allenarvi un sacco senza perdere del tempo e migliorare le cariche. Scusami, noi di tempo ne abbiamo perso tanto, proprio perché anche io ho cominciato un po' come tanti ragazzi giovani. Ero stupidino, non sapevo granché e ho fatto grandi errori all'inizio. Ma stupido, anche perché non lo sai che può essere così pericoloso. E' andata bene perché non siamo mai rimasti schiacciati in maniera così colossale. Però ragazzi, sfruttateci perché i nostri errori sono il vostro successo. Tutto quello che abbiamo sbagliato eviteremo di farvelo fare a voi. Quindi eviteremo grandi errori e velocizzeremo il vostro percorso di miglioramento fisico. Che sia nella forza, che sia nell'ipertrofia, a seconda degli obiettivi. Però è veramente fondamentale riuscire a affidarsi. Perché fai 4x10. Ma io faccio un 3x5. Perché mi... Ragazzi, l'esperienza ha una rilevanza enorme. E ve la stiamo dando un po' alla volta, stiamo cercando di passarvela. Proprio perché evitiate di farvi male e perché vi vogliamo grossi. Vogliamo gli italiani grossi. Il senso del canale è proprio questo. Guardate, lo diciamo sempre. Se noi avessimo avuto questo splendido mezzo quando abbiamo iniziato. E quindi qualcuno con fatto la gavetta prima di noi avremmo veramente risparmiato tantissimo tempo. Tante stronzate, tanti errori. Quindi sfruttate questo bellissimo mezzo. Non guardatelo con gli occhi così. Oh che forti stanno parlando. Ascoltate. Perché anche durante i nostri allenamenti, nei nostri video stupidi che vedete di là, che facciamo gli scemi. Quello è intrattenimento. Ma guardate sempre con un occhio al sorriso. E un orecchio ad ascoltare quello che diciamo. Il riscaldamento, l'avvicinamento al peso. Tutto quelle cosette che diciamo anche nelle live. Quando andiamo in live, nelle live di allenamento, buttiamo sempre nozioni. Perché ci siamo reso conto che noi diamo per scontate tantissime cose che per il resto delle persone sono, oddio, ma sul serio. E quindi lo diciamo sempre. Live di allenamento, le facciamo nei nostri profili. Questi video formativi, leggeri, che cominciano a darvi un indirizzo. Sfruttate questo mezzo che noi non abbiamo purtroppo avuto. Alleluia. Alleluia. Muscoli per tutti. Questo è uno slogan politico, questo mi piace ragazzi. Qua si va in campagna elettorale, figa. Sì. Muscoli per tutti, la approvo. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. E continuate con intelligenza a dispetto nostro. Grazie. Figa la pose estetica. Grazie. Grazie.